Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto alla ricerca della riserva naturale dell'episodio numero 8. Le abitudini dei pesci ventosa. Continuiamo da qui. Passato un giorno dalla cattura del pesce domestico di Silvestro, Spinks, la piccola sfinge, appena svegliata dalla luce del sole, si recò verso il laghetto del piccolo pesce per portargli da mangiare. Tuttavia, quando fu arrivata, il pesce rifiutò il cibo offerto da Spinks. Così delusa la sfinge, credendo che il pesce ventosa rifiutava il cibo per via della sua natura malvagia, della sua specie, si diresse da Snow e gli disse. Snow, sono andata stamattina a portare da mangiare ad Albert il piccolo pesce di Silvestro, ma lui rifiuta ciò che gli offro. Forse mi respinge a causa che, secondo la mitologia, le sfingi si nutrono degli sfortunati che non riescono a risolvere i loro enigmi? Dimmi che mi sbaglio. Snow, rassicurando Spinks, gli rispose. Spinks, non dire così. Tu sei una sfinge buona. Appartieni alla specie di sfingi minori, una rassa di sfingi benevola, come l'ali leone. Invece temo che quel pesce si sia ammalato. Dopotutto non conosciamo le sue esigenze. Spinks, portami dal pesce ventosa. Voglio medicarlo. Spinks, sollevata, lo portò dal pesce ventosa, dove Snow comprese che Albert era un pesce notturno, il quale, infatti, si nutriva abbondantemente soltanto di notte, mentre durante il giorno lo passa a dormire e nascondersi. Spinks, felice di sapere ciò, decise che avrebbe nutrito Albert solo in tarda sera, imparando un'importante lezione sulle abitudini del piccolo pesce ventosa. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dall'ascolto, lasciate un like se vi è piaciuto, grazie alla prossima, ciao da Davide, ciao.